Ciao a tutti, come vedete alle mie spalle è già pronto il palco di Italia 5 Stelle. Noi stiamo già ultimando gli ultimi preparativi, insomma quello che manca a questo scenario fantastico dell'autodromo di Imola siete soltanto voi, il vostro calore e la vostra passione per il Movimento 5 Stelle. Da quel palco vi diremo tutti i nostri progetti, tutti i nostri sogni per un'Italia 5 Stelle, un'Italia finalmente con il Movimento 5 Stelle al governo. Io vi invito, qui la temperatura è ottima, portate però un giubbottino che non fa mai male e non dimenticate che avete ancora tempo per effettuare la vostra donazione. 17 e 18 ottobre 2015, Italia 5 Stelle, vi aspettiamo!